Dov'è il mio shot? Tu non lo vedi che bevo shot. Dov'è il mio shot? Tu non lo vedi che bevo shot. Dov'è il mio shot? Tu non lo vedi che bevo shot. Come hai rotto il telefono? Non lo so. Come te lo sei fatto? Per caso sai come è andata a finire ieri sera? Vedo questa cosa nella testa. Insomma, c'è un ragazzo. Voi la definite come qualcosa che io non ho mai visto. Come si sente? Sto bene perché sono delle persone. Devo solo capire, mettere insieme i pezzi. Tutti i pezzi. C'è un ragazzo. C'è un ragazzo. C'è un ragazzo. C'è un ragazzo.